Come vedete da là siamo partiti, siamo arrivati qua, l'acqua qua è bassissima, cioè che spettacolo Olbos, questa lingua di sabbia in mezzo al mare. E abbiamo fittato questa macchinina da golf, adesso faremo il giro dell'isola into the wild. Abbiamo parcheggiato il nostro bolide, lì così, e guardate dove ci siamo fermati un attimo, in questo angolo di paradiso dove venneranno anche il mango, l'arna, guarda che c'è anche lei. Siamo arrivati a Punta Moschito. Guardate che spettacolo questa spiaggia selvaggia, wow, ci mette una caffettura, una pianta. Come vedete qua c'è la spiaggia, le persone stanno facendo il bagno e là così c'è una lingua di sabbia in mezzo al mare, quindi possiamo anche camminare praticamente quasi sull'acqua. Ma così ragazzi c'è la lingua di sabbia proprio in mezzo, in mezzo al mare, come vedete. Noi eravamo là così. Spettacolo. Il mio bagno 2023 è fatto. E' bella vita. E' bella vita. Grazie a tutti.